eccomi rega ciao bellissimi bah che c'è? c'era dov'è? bimba vuoi entrare? amur a posto rega scusate prima non fissa se ti manchiamo allora ma sti capelli mi piacciono allora prima non sono riuscito ad entrarne nella diretta di aurics perchè non ho visto le notifiche auriccazzata aia adesso mi fucile vediamo cos'è quello? oddio chi è? dai madonna oddio è ritornato al pixel ma perchè mi prendi in giro così? ma come ti prendi in giro? vuoi andare? amore ciao fratellino ciao marchino ti amo bellissimo ti devo dire due cose importanti non mi interessa non mi interessa va bene dimmi va bene dimmi ma sai non ti interessa va bene non ti interessa dai dimmelo io ne ho parole dai dopo che ti ho aspettato per mezz'ora dimmelo ma cosa per mezz'ora? ti ho detto che sono brutta allora vai dirlo ma dove ma che cazzo stai dicendo? ma dove mi hai aspettato mezz'ora? che a me non è arrivato manco una richiesta ma se te l'ho inviata vabbè poi mi hai detto che adesso sono brutta quindi è giusto che io sia un po' arrabbiata adesso mi puoi dire perchè io ti ho detto che sei brutta adesso? sì tu appena mi hai visto hai fatto oddio ma che cazzo stai dicendo? sì hai tipo preso un colpo hai fatto oddio ah ma ma che cazzo ti sei fumato in venese? hai già pevuto 10 sprizzoletti? io non lo so magari no e che penso che ma ma perché? dimmi oddio mi ritrovo un dito così ma che cazzo è? ah ma io pensavo per me ma se manco ti avevo visto in faccia come ah no perchè hai detto oddio quando mi hai visto beh non avrei tutti i torni stavo scherzando no dai oh non possiamo litigare no no ti prego non possiamo sei in veneto dai oh non possiamo litigare sei in veneto no dai no 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 rega non iniziamo oddio allora sei in veneto non possiamo litigare perchè se litighiamo non c'è a parte che rega vi giuro che mh cioè seriamente oggi da quando andavo via che sono in stanza chiusa perchè boh è stranissima senza per lei facevo le peggio cazzate però adesso boh mi sento strano mi devi vedere una cosa importante hai detto più che altro agli inizi inizi quando non ci sentivamo ancora c'è ero sempre con gli altri però adesso quando stiamo insieme c'è sempre con lei di strano stare non vedere una una lelichelli in giro per casa guarda 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 che non sono lì eh cioè puoi tirare anche mille sverglie ma ti spacchi il cerebro da fare i tuoi io te lo dico non te ne frega niente in che senso non me ne frega niente tu non te ne frega niente tu non frega niente dai adesso dimmi per favore cosa mi dovevi dire allora tu lo sai di quello che volevo cioè no aspetta si ho capito no non ho capito aspetta aspetta non sto capendo un cazzo si è strano mamma mia che noioso che sei amo perchè mi sono dimenticato di rispondere a un botto di gente che mi hanno fatto gli auguri quindi si ma dai ma rispondi dopo ora sei con me non capisco sta cosa ok ok hai ragione scusa raga eh stavo dicendo che tu mi devi dire il giorno comunque cioè non è normale che giorno ti devo dire ma tu sei stup- oddio mamma mia oddio allora tu hai parlato con tua mamma o no? si cosa hai detto? che va bene storia? si steeeeee rega sono la persona più felice di te devi dire a marzia che la adoro che è la più fantastica del mondo no rega oddio mamma mia mi sparo 10% si e allora? eeeh ok no perchè stavo guardando il specchio riflesso lo sei tu ma dai che allora in poche parole quindi ma giorno amore ma che giorno possiamo andare lì? e vabbè ah stavo leggendo un commento ah che giorno quando torno? aspetta perchè io non ci sto capendo le tre perchè se va via la neve io non voglio andare fin qua se c'è la neve ok perchè se non c'è la neve a me fa cagare andare cioè nel senso ma ci sono gli alpaca amore ma che cazzo oddio ma che me ne faccio di un'alpaca? ringo il saltello nel prato con un'alpaca io si come si? ma mi hai preso per un canguro ma che cazzo significa si adesso rega rega adesso cerco ma io lo possiamo dire a loro? vai diglielo no tanto loro lo sanno rega un po' parole quella è la sorpresa che devo farle e ho dovuto per forza diglielo perchè in ogni caso non potevo senza alcun senso di no ma dato che mi erano eh e? e niente diglielo io? diglielo tu cioè sbè io ti faccio io faccio la sorpresa e dovrei dirlo io ma che è? devi diglielo tu che hai scambato ma perchè devo dirglielo io? tu mi hai scambato cioè io non ho capito tu mi hai scambiato per una di queste robe che belli amore guarda hai visto? io non ho parole cioè io letteralmente non ho parole tu mi hai scambiato per una di quei robi? anzi anzi rega anzi adesso sarò ancora più severo io ti sembro questa roba qua io assomiglio a questa cosa stai dicendo che io sono questa roba qua che cosa ha? è un animale tipo cavallo manca un canguro? cos'è questo? è un canguro e grazie al cazzo hai letto? business no però un po' ti assomiglio Marco ti bombo se bro ti giuro eh no amore madonna oh sono ironico aspetta cos'è che devo dirti? aspettate raga ehm andiamo quando torno eh ma quando torni? perchè io devo prenotare? lunedì pazze vera che palle ti ti ma ma secondo voi mi manca raga? di certo non mi manca va bene ma come? sto scherzando no 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 raga sono veramente uno stupidino e adesso come faccio? ti assomiglio amore e i miei fratelli ciao ma chi sei? ah ciao tu sgravo l'altra volta e ti giuro che non rientro più in teoria? si ma proprio mai più mai più ok è proprio una cangura di quelli molto amore ti devo dire davanti a tutti a 7000 persone ti devo dire una cosa importante spara anzi ti faccio vedere questo raga state molto pronti perchè gli faccio vedere questo amore samu l'italiano ok amore ti vedo davanti a tutte queste persone voglio dire ma a me si è bloccato tutto i commenti e tutto mi si sono bloccati amore non mi interessa no a me si fammi rientrare ti oh ma perchè ok raga adesso vi dirò una cosa importante state molto provanti perchè è ciò che provo per lei oh cosa ti lamenti? cos'è che è? perché ti lamentavi scusa ma dai ma non mi fai vedere i commenti amore nooo ho sempre voluto dirti però non ci sono mai riuscito perchè ero troppo timido dimmi piccolina guarda veramente cioè non so come fartelo vedere perchè cioè lo provo da tantissimo però ce l'ho qua sulla punta della lingua anzi ce l'ho proprio qua ti giro il telefono e te lo faccio vedere vai però devi essere sincera amo va bene grazie a tutti ok raga preparati io non vedo i commenti e non vedo le persone ma tu mi vedi? si sicura? ok amore uff sei una cazzata una cazzata? perchè dovrebbe essere una cazzata scusa? voglio dire ciò oh ma ma perchè devi far così? no scusa perchè una cazzata? no no aspettate un attimo perchè una cazzata scusa? hai rotto cazz fagli amore io sono pazzata oh oh amore amore dai fammi vedere sei pronta? si però serio serio amore no no raga vi giuro che mi stanno scendendo le lacrime non riesco non riesco già nel senso oddio oh ti muovi eh? è stranissimo muovi non so come dirtelo non so come dirtelo amo mettimi il countdown dieci no puoi perchè io non vedo i commenti non vedo le persone che ci sono ma che te frega devi vedere me quello che ti faccio vedere dal telefono va bene ok metti dieci fai dieci nove dieci nove più piano ti prego otto sette sei oddio cinque no quattro piano tre piano due ah ma spesso piano uno nooo spesso zero ok raga ci sono amore io ti volevo dire questa cosa da tanto tre due uno ti credi simpatico? ti credi simpatico? what? nooo raga nooo 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 raga invitati oddio amore amore è pensare impossibile stai ridendo solo tu eh stai ridendo solo tu stai ridendo solo tu guardare il video adesso ve lo faccio vedere raga un'altra cagata un muro mi sa che vuole tornare single no raga un muro vuole tornare single tranquilli dai ti faccio vedere il video preso malissimo visto fratello ok raga adesso vi faccio vedere una scena che vuoi una scena che vuoi probabilmente confermo ciò che dice auric che sa adesso se ci metti altro tempo per fare sta cagata un'altra cagata delle tue amore guarda qua quel giorno che ti stavo facendo la dichiarazione no? se ti ricordi guarda qui guarda 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 sta roba guarda sta roba c'è santi e mi piacca alla scritta alla scritta c'era santi rigno guarda oddio guarda l'uomo tante regna che mi stava insultando perché non si accendevano le candeline raga adesso vi faccio vedere una cosa io Aurora quando mi litiga con me mi fa gli occhi dolci sei tu? no sei tu questa in realtà sarebbe così questa sei tu questo sono io perché sei tu quello lì scusami aspetta un attimo oh perché non mi ascolti mai allora questa sei tu quando li litighiamo questo sono io che mi incazzo io ti faccio alzo gli occhi e tu tipo fai guarda il sorrido e poi tu fai e poi vieni da me guarda guarda non è ancora finito e poi alla fine ti lecco no dove è non è questo ah no cazzo non è questo è questo mi sa questo è Aurora questo è Aurora raga ecco raga questo sono io con Aurora dopo che abbiamo fatto pace guardate ma che schifo ma che schifo non è vero ma amore non dire così tu sei quello quello piccolino no adesso rega adesso tiro fuori il video serio aspettate un attimo che video? amore lascia stare amore ti ricorda qualcosa sta cazzone alla fine ti lecco no rega non incontri guarda ti sbrighi o no o facciamo qualcosa perchè hai già rotto le palle guarda lascia stare non ti faccio manco mi hai fatto incazzare che vero maloso no 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 lascia stare no 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 hai rotto il cazzo no 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 amo un cazzo hai rotto le palle e non hai rotto ah pure lo ridici pure certo è la verità guarda lascia stare ma guarda lascia stare quello volevo farti vedere una cosa importante che l'ho fatto lascia stare infatti nessuno te l'ha chiesto questo cosi impari cosi impari questo si chiama karma amore mio questo si chiama karma karma ma beh allora vuoi fare qualcosa di divertente oppure vuoi continuare a guardare il cellulare in cerca di qualche stronzata da farmi vedere trattami così adesso ti faccio vedere una cosa mamma mia quanto sei per maloso mio amore immobile fissi il cellulare con la bocca a pelle cerca di qualcosa te e questa roba te la farà impazzire guardate ah business che sei serio cosa business che sei serio cosa business che sei serio ecco questo sono io sei impegnata no peggio sono impegnativa cazzo si sono serio sei serio che sai quanto me ne frega te non me ne frega non te ne frega no sei sicuri si giura no oh giuro sai quanto me ne frega zero meno zero sai quanto me ne frega a me meno di zero oh sai quanto frega a me invece meno di due di zero ma manco sei parlare ma torna a fare qualcosa di produttivo ok devo tornare a fare qualcosa di produttivo sei sicura io oppure quando dormo produco si cazzate oppure nei miei sogni produco roba produttiva tu cosa fai invece anche io produco roba produttiva tu mi usi mi chiediamo e poi mi saluti sai cosa faccio io ti rompo la lingua va bene adesso farò vedere a tutti ma a tutti quelli in live la mia oh ma che cazzo ci fa questa mia foto la tua? la mia corsa col bacino no ah ma te la sei cercata no tu te la sei cercata adesso pubblicala mettila mettila così vediamo tutti quanti che ti sfottono ma perchè guarda perchè perchè cringe sta roba no allora tu non hai capito niente perchè io non è che lo pubblico io lo faccio proprio in live perchè io se in live me lo faccio hai capito? beh allora sei doppiamente stupido già sei stupido di su e poi sei proprio così fai doppiamente beh sto capito sai cosa significa? non è non è la mossa dell'alpix come si è che mi guardi così? mossa dell'alpix quelle cose lì io lo sto la testa si ieri anche l'ha fatta ed era con giulio in bagno soli con la porta chiusa no non è vero no non è vero non è vero non è vero ieri l'ha fatto vedere con giulio va a fanculo veramente no 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 non è vero non è vero raga ma che cazzo le dite? questo è impazzito no raga mi fate litigare adesso mi avete messo no mi avete messo in una situazione di merda adesso io non ci credo siete pazzi? no speriamo che entra ma come con feri? no raga no non mi accetta più porca la si che cazzo si è incazzata no raga mi avete messo in una situazione no mi ha rifiutato ancora oddio raga ma perchè? perchè avete voglia di dire una roba così? ma che cosa fa? ma è troppo geloso non mi accetta più non mi accetta più la richiesta? no perchè gli avete detto sta roba raga? non è vero ma tu seriamente pensi che io io non ho parole guarda adesso io faccio il movimento del bacino lascia stare ok che pare raga si è andata pure via raga si è andata via cosa vuoi? torna a fare la corsetta con Giulia cosa? adesso povero muore esatto adesso faccio la corsetta d'aurica ma perchè non puoi un attimo il sai anziché fare quella corsetta che già tra l'altro l'hai fatta ieri con la tua amichetta cosa? scusa? allora raga io tu dato che no adesso io la corsetta lo faccio non so se hai capito vabbè falla io esco se tu la faccio no no perchè? perchè l'hai già fatta ieri con l'altra persona ieri tra l'altro fai le loro parole cosa? no raga ma non dite queste queste cazzate che poi queste si incazze ma si hanno confermato tutti cosa hanno confermato? wait se io vedo gli screen che veramente erano in live che live? mi li faccio mandare raga è vero che nessuno ce l'ha lo screen vero? ma di cosa screen? raga difendetemi in serio difendetemi non so cosa fare non boh difendetemi vi prego raga se avete se avete di screen mandatemi in direct grazie per favore vi seguo se lo fate vi seguo screen di cosa? dai di ieri raga difendetemi chiusi in bagno non è vero infatti ma che chiusi in bagno? stavo con la porta chiusa per precisare stavo con la porta chiusa giuro che non è vero giuro che non è vero che ero con la porta chiusa io ce l'ho mandalo grazie ma non è vero sono photoshoppati sono bravi con photoshop ma che cazzo dite raga? andate via stamattina comunque non è vero è follemente innamorato di te e non è vero Auro giuro su dio visto? appura non era con la porta chiusa non faceva nulla allora ammettilo non è vero che ho la porta chiusa esatto non ce l'ho dai raga dite la verità era pure il mio compleanno non potete dire ma con la porta aperta esatto raga non potete dirmi sta cazzate cioè dille sta cazzata dirò pure il mio compleanno quindi non ho parole no perché stai fagli lasciare non è vero visto? va bene ti credo ma perché dovete fargli litigare esatto vabbè io stacco veramente le parole cioè no raga non arrabbiata ma che pippolare no 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 serio non era assolutamente vero questa cosa ok no amore eh raga però cioè se le dite sta cazzata poi lei ci crede non ci credo sì perché sei stupidino mi mandi un bacino qui ne che 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 Amore Amore Patatino Patollo Guarda, guarda che sorire 3, 2, 1 Cazzo, non funziona Oh, scusate Ma perché non riesco a fare come fa lui? Dai, che adesso ride Al mio 3 1 2 2 e mezzo Quasi 3 3 Amore Allora, manca a fare così, però, Emo Vuoi continuare più un altro po' a... Cos'è il gioco del silenzio, questo? Chi parla per primo perde Ma che schifo, mi sono tragiato se le calze di Ergie puzzano come la merda E' schifo Ergie, ma che cazzo fai, le tue calze di merda sul letto, che schifo Ma ci sembra normale Li ho appena buttati, ci avevo le calze di Ergie Questo, questo sei tu Ergie, se sei in diretta, però, ma hai rotto il calze No, non mi ha cagato Pfff, queste calze di Ergie, faccia che schifo, ma voi... Oiii 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 Mi cagli un attimo Ma è impossibile che mi ritrovi alle sue calze Oiii Che c'è? Questo sei tu Quale? Questo Oddio Aspetta, aspetta che ti trovo Auri Aspetta, ti cerco io adesso Auri Aspetta, dove cazzo stai? Uh, ansia, 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 spesso, spesso Rega, aspettato un altro, guarda Guarda, guarda chi c'è lì, Auri Ettore Ti saluta Auri Ciao Ettore Ettore, ti saluta Aurora A casa No, torna lunedì Si blocca Si blocca Si blocca Ciao Ettore Ha detto che non si è accorto della tua... Guarda che siamo in live Ah, ma ha detto che non si è accorto della tua assenza Della tua assenza Si blocca, amore Guarda Sono in diretta, raga Sì Dov'è l'alpix? Oh Amore Amore Eh Sono Sono con due ragazzuoli, eh Io mi do da fare, eh Ludo Ciao bimba Ciao amore Io mi do da fare Ciao ciada Amore ho perso... Ma tu mi hai perso l'alpix Oh mi hai perso l'alpix, lo sai? No, ma c***a Oh mio dio Si Sono in diretta? Si Amore Dov'è l'alpix? Non lo so Guarda Non lo cerco manco perché seriamente io Io son basito Io son basito Ti ho regalato alpix e tu me l'hai pure perso, brava Sai che mi manchi tanto tanto? Si, infatti mi hai perso pure alpix Si blocca Ok Mi 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 ok mi manchi non sai che mi hai perso Addix mi hai perso il regalo non l'ho perso mura ammettilo che stavi con Giulia nel bagno chiuso venga non è vero basta porca mmm mi hai perso Addix non l'ho perso io so dov'è non lo posso dire perchè sennò lo prendono amore giura su quello che hai di più caro che sai dov'è giuro giura più che vuoi sì mi devo fidare sì quindi Alpix è Alpsicuro sì Puccix si chiama come? Puccix ma che è Puccix perchè è Puccioso e il nomignolo di Pucciosa è Pucci e con l'Ax è Puccix capito? dove hai trovato quel nome lo sai solo tu ma che è cosa? no no ci sta hai ragione è bellissimo quel nome hai sentito il nome più bello no raga raga ammettetelo il soprannome che le ho dato io è Patolla rega cioè dai no Patolla fa quello schifo no scusa è bello no fa cagare al cavolo mi dispiace dirtelo però fa quello schifo cioè non mi viene più brutto che una persona potesse dare un'altra persona è proprio lo schifo cioè è meglio se mi chiami merda stai dicendo che Patolla si fa schifo Patolla bellissimo stanno scrivendo visto? impara a te io non capisco come fa non piacere il nomignolo Patolla perché fa schifo chiamala piccola esatto piccolina o piccola no Patolla o Patollina no no amore per favore chiamami piccola ma ma perché piccola? visto anche il mio il mio best dice che per me Patolla spacca ha detto Marco visto? dai Marco ma anche tu raga ma Patolla dove lo sentite il nomignolo Patolla? appunto magari stiamo in centro Patolla dove sei Patolla? che schifo dai che bello tipo siamo in negozi davanti a tutti grido allora Patolla facciamo scegliere a loro tra Patolla e piccola vi prego votate piccola vi prego Patolla non è proprio bellissimo carino no raga è bellissimo dai raga vi prego scegliete piccola oppure bimba hai preso il pantalone di Stranger Things da Pull&Bear raga muro la ceresti aurics per i tuoi follower cosa? è una cosa piccola chiamala piccola no raga no raga no la piccola ma poi stete lì bimba dai no non puoi vincere piccola piccola ma perché piccola 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 tutti quelli piccola ma perché piccola piccola c'è esiste la parola patolla dai amore hanno vinto loro basta vuoi far felici non li vuoi far felici io sì ci visto hanno scritto patolla ma non è vero sta vincendo piccola piccola e bimba facciamo così invece tra piccola bimba e patollina chi quale signore piccola patollina patolla ok può darsi che è un po' troppo però patollina ci sta a me no 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 rega dai patollina ma patollina cosa sembra una plastilina patollina io credo in voi dai amore no rega piccola no serio bimba no rega dai patollina non mi piace niente però dei miei nomignoli così non è bello sei un pro patollina ma perché dici così patollina amorettino visto no raga tutti con patollina patollina no ma che è patollina 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 dai amore fai il serio allora patatolla patatolla no piuttosto patollina quindi è convinto no dai dai sto scherzando rega la chiamerò piccola o patollina no no piccola o bimba tanto tu ti comanderei sempre mi chiamerei patollina no rega ma se la chiamo pannolina no antic scusami scusa pannolina ci sta amore pannolina ma che è come che è ma perché devi far così ma non ho parole pannolina non gli va bene pannolina no are you serious se passi pannolone mi andrebbe bene pannolone dai no oh sentiamo cioè non è che siamo stati tutti piccoli cioè pannolino ci sta visto ho pure nato a fanpage ha scritto si mi piace dai bassa sei pesante ma tipo barbu è vero ma barbu dai ma che cacchio è no dai rega barbu no è bruttissimo deve sentire senza ori allora prima di tutto inizierei a divertirmi seriamente e sarebbe bellissimo perché mi viene le giornate al top sarebbe la cosa più bella del sto scherzando rega cioè fate conto che è partita sta no amore no sto scherzando dai sto scherzando no dai sto scherzando sto scherzando sto scherzando sto scherzando no rega sto scherzando dai chiama la piomba hanno scritto sta scherzando infatti rega no dai ditelo tutti sto scherzando bellissima topolina sto scherzando alpachina sto scherzando allevatrice di alpaca sto scherzando guardate che rita adesso io faccio 3 2 1 e lei al mio rega se lei non ride al mio 1 è perché c'è qualcosa che non quadra cioè è impossibile che lei non ride 3 2 eccola eccola c'è è tra noi è tra noi è ancora tra noi Mura se non sgrava non è lui eh rega tanto è il tuo amico Marco Doni si ah basta no pure lui guarda cosa è scritto mi dispiace dirlo ma è così dove ne è quando torno in zona usciamo ah io lui no ma perché rega ma io non posso succedere con il mio amico io non lo so ma perché non ti ricordi l'aiuto no rega l'aiuto io non me no rega ho sgravato mi sa bro mi è scappata via no mi vuole più mi sa no rega mi sta rifiutando dai ma non in quel senso madonna mura sei un disastro raga lascia se sta rega sono veramente un disastro sei un pirla avete ragione sono scemo avete ragione rega ma lei ma oh ma non lo ma perché devi capir male ma che cazzo che era fate cazzate hai fatto oggi mille no rega non mi sto più accettando ma perché perché sono così ogni tanto rega mi partono cinque secondi non lo fai come Emily ho preso in del cuco no rega non mi sta accettando ci manca bro si tantissimo dai accetta please please dai dai accetta no rega se n'è andata accetta ehi che vuoi perché ti sei incazzata non ho detto nulla di male ma cos'è ma amore ma mi fai vedere i i le dita dei piedi io non lo so oh sei dimmi eccola come sempre un occhio un occhio amo ma l'altro occhio è visto ok metà faccia ok ok niente niente poverina la voce è spezzata rega la voce è spezzata amore fa sentire la tua voce vuoi sentire seriamente spezzata parla come stai ti rega un po' spettata la voce come facciamo adesso amore inquadrati che ti si no ma perché non ha detto nulla di male non lo so sta piangendo ma no ha pianto non sta piangendo non ha detto nulla di male amore ha il mascara colato è vero non è vero è vero amore amore guardami amore 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 ma non ha detto nulla di male prima avevo solo detto che volevo uscire con il mio miglior amico basta piccolina dimmi patolla come stai? bene tu? tu bene mi manchi ok ok Cos'è il gioco del silenzio? Perché mi hai rimesso a dirmi qualcosa? No No. Falla a ridere. Ridi. Oh. Ridi un po'. Che stai? Niente. Quando è che torno a casa? Non lo so. Domani, pensi? Bene. Eh? Eh? Allora, vedrai tu amici. Per. Che? Cosa? Perché? Cosa stai facendo? Scusami, stai provando... Non lo so Dai, un po' di allegria, basta, di qualcosa, sennò è inutile continuare a salare Guarda Sei triste stasera? Sì Che hai detto? Sono triste Poverino Dai, che domani torni a casa e li diverti Questa era una... Questa era una frecciatina, eh? Era un arco Altro che frecciatina Spero ti sia arrivato proprio in fronte Vabbè O forse mi sa che vado a dare il zombie Lo so Mmm Ottimo Lì sì che ci si diverte Questa era ancora più freccia Questa era un bazooka diretto in fronte Peccato che ho fatto così Peccato che quello che mi hai lanciato tu La freccia che mi hai lanciato te Ho il cuscino per farlo Peccato che non l'ho visto però Il tuo cuscino prima Tu non lo devi vedere perché sono talmente veloce che tu manco te ne accorgi Ah... Va bene Mi raccomando per domani Vai a casa presto al mattino così la sera c'è tutta libera In che senso? La sera c'è tutta libera Ah, la sera tutta libera, eh? Oh, l'hai detto te, eh? È inutile che... A parte che c'è il coprifuoco quindi sera libera cosa? Io non ho parole Auguri in ritardo, grazie Gaia! Chi ha? Gandalo Gandala Partiamo in zona rossa dove hai cavato Auri Esatto, è in zona rossa dove vuoi che vado Se non ci fosse stata la zona rossa voglio vedere Eh? Voglio vedere se non ci fosse stata la zona rossa Cosa stai... cosa intendi con questo, scusa? Niente Chi vuole intendere intendo Se l'hai andato adesso Dovresti proprio divertirti un bel po' dato che non ci sono E con me non ti diverti come ci si deve Dato che tu non pensi tanto con me e dici che non stai bene con me allora Tu divertiti bene, tanto sei lì fino a lunedì, no? Certo! Va bene Allora penso che la serata si concluda così Esatto, la serata si concluda così E guarda, io sinceramente Non mi va, guarda, non mi va Ciao 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 Mi raccomando divertiti eh Mi raccomando divertiti di più tu No, più tu dai No, no, no Non sono più compagnia dei tuoi amici, tranquillo Cosa? Ma... Questa è impazzita Non lo so Vabbè raga si è arrabbiato Non dovete ritirare invece, ormai, tutte le sere, anche quando non ci vediamo non li diamo No... No, no, troppo sta...